Ciao ragazzi siamo tornati con gli incarichi di Fortnite storia parte 1 dobbiamo posizionare amuleti degli spiriti per saperne di più sulla magia Allora ci buttiamo qua a cos'è che è muschi magici e vediamo tra l'altro muschi magici sotto una di queste casette raga questa qua In mezzo c'è un mega nascondiglio non so se l'avete già visto penso di sì ormai lo sanno tutti E' pieno pieno di roba bella allora è pieno di gente anche qua che vuole fare quello che voglio fare io Quindi raga penso che la prima cosa da fare è interagire con i punti Ok allora posizioniamo un amuleto qua poi l'altro è qua Ah ok raga pensavo dovessimo portare gli spiritelli nei loro punti invece no E allora è abbastanza easy raga non bisogna fare missioni prima degli altri Si fa si fa in tranquillità e un like cozzo mentre andiamo al secondo punto al secondo amuletame diciamo così Ma niente non sono riuscito a scavalcare il muro tra l'altro bill umano quando salta è bruttissimo Ok ci siamo quasi al secondo amuletame apriamo la cassanza Questo per stare tranquilli ok qua c'è il secondo punto Tra l'altro raga si può fare ovviamente in più partite Però diciamo che questo è l'unico posto che ha tre punti vicinissimi tra loro Quindi si riesce a fare si riesce a fare davvero in una partita sola Dove stiamo andando? Ok ci siamo quasi all'ultimo e terzo punto il più bello di tutti C'è uno Speriamo sia un bot Che non assolutamente voglio di farmi killare adesso Ci sono più bello Eccolo là Comunque sono vicino ai templi degli spiritelli Quindi abbastanza visibili dalla mappa c'è la striscia bianca Allora si posizionano tutti e tre gli amulettini Ci dà i nostri XP E ci manda la prossima missione Noi però ci fermiamo qui Like mi raccomando per supportare i cani Ciao